Contro l'Udinese, la SSC Napoli ha rimediato un pareggio che sa di sconfitta e mette sempre più a rischio un posto alle prossime competizioni europee. Al termine della gara, il giornalista Luca Cerchione ci ha tenuto a sottolineare un retroscena riguardante l'allenatore Francesco Calzona. Ecco i principali aspetti evidenziati, Ferrara chiede a Calzona se resterà al Napoli anche nella prossima stagione, nelle vesti di vice. È evidente Ciro non sappia che Ciccio abbia chiuso i rapporti con tutti, società e calciatori, dopo il litigio per la prima del film. Situazione grottesca all'interno dello spogliatoio partenopeo, niente più parte atletica e tattica. Situazione grottesca.